Come concordato con l'amministrazione comunale, la RAP ha iniziato a installare 100 cestini gettacarte. I primi 40 sono in fase di collocazione lungo Corso Vittorio Emanuele su Via Macheda, fino ad arrivare alla stazione centrale. Gli altri saranno posizionati seguendo in prima battuta le richieste pervenute dai cittadini, tra cui Piazza Magione, Piazza Oratorio dei Bianchi, Piazza Calza, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Mendole, Via Monte San Calogero. L'intenzione è di collocarli in tutte le circoscrizioni della città, senza tralasciare alcun quartiere. In totale è prevista una fornitura di 2300 pezzi di due tipologie. Auspichiamo che i cittadini apprezzino quest'ulteriore sforzo, dice il presidente di RAP, Giuseppe Todaro, e che abbiano rispetto per i nuovi cestini che stiamo collocando. Mi piacerebbe, tra qualche settimana, poter raccontare alla città di un'operazione di successo, con i contenitori piazzati da RAP utilizzati correttamente e rispettati da tutti e non vandalizzati, come successo in passato.